Allora mi trovo esattamente al vecchio mercato che per me è un ricordo veramente eccezionale in quanto in quella scuola lì ho fatto l'istituto tecnico industriale quando era semi pericolante e qui c'era il famoso mercato. Oggi dopo tanti anni ho il piacere di suonare dal vivo il 29 settembre, cioè sabato prossimo, oggi giovedì e di fare il mio repertorio delle strane canzoni. Saranno strane canzoni, ve lo dico subito, quindi coloro che verranno a vedere saranno portati per mano in questo giardino che ha sempre questa dimensione un po' particolare e mi raccomando non ci sarà da sedersi ma venite comunque ad ascoltare. È multimediale, quindi video, audio e ci saranno delle sorprese. Ciao!